Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Continuiamo la rassegna dei video storici, quindi facciamo salto avanti stoppato dal blocco grigio. Ci dividiamo in tre gruppi, lo facciamo a squadre oggi. Dai, allora, la capitane della squadra sono Emma, Giada ed Erika. Dovete fare a squadre. Emma, scegline una. Giada, scegline una. Erika, scegline una. Vai, ancora una Emma. Camilla, ed ecco il trio. Emma, Letizia, Camilla. Poi, Giadi. Giada, Irene e Faddi. Erika, Martina e Miki. Belle queste squadre. Sono proprio curiosa di vedere chi vincerà. Allora, prendiamo il... Emma, visto che hai iniziato te, inizite anche la sfida. Avete tre tentativi a testa e contiamo quante ne stoppate di più, ok? Emma, quando vuoi. Uno per Emma. Uno per Leti. Peccato, Cami. Due. Tre. Quattro. Cinque. Peccato. Cinque. Cinque. La squadra di Emma finisce con cinque punti. Ora tocca la squadra di Giadi. Emma, siete seconde voi. Quanto siete voi cinque? Ok. Cinque punti per Emma. Giadi. Il massimo è nove. Novi. Novi. Uno per Giadi. Peccato. Giadi, tocca a te. Io parlerai con i componenti della tua squadra. Irene. Ma hai messo le mani? Siete a uno. tre. Siete a due. Siete a due. Siete ancora due. tre. Tre. Tre punti per la squadra di Giadi. Tocca ad Erika, Micola e Martina. Uno. No, peccato. No, peccato. Cioè, se siete a dai mici da sola. Ah. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. cari giada ed emma hanno vinto la squadra di erika si può se vuoi possiamo fare uno spareggio no sì un altro c'è si può fare un'altra volta ok però questa l'ha vinta la erika ok secondo giro chiedono chiedono come si dice quando uno chiede di rifare no ricorso la rivincita brava giada chiedete la rivincita ok vediamo 1 2 3 4 5 6 6 6 6 punti un punto in più dell'altra volta ora è il turno di giada vediamo giadi dai rivincita giada no è una fissa vai vai 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 punti per la squadra di giadi ed ecco erika micol e martina 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11 11 12 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 18 18 18 19 19 20 20 21 25 26 27 27 28 29 29 30 Nicola è la tua compagna di squadra è la tua compagna di squadra parlaci prendete accordi va bene Erika Erika terzo posto per Emma dai le tre capitane vengano qua Emma, Erika e Giada speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tantissimi like ricordatevi di attivare la campanella così vi rivedranno le notifiche di tutti i nostri nuovi video non l'ho capito perché ridete perché lei non sa dire della campanella mi inceppo tutte le volte ciao 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 ciao